benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa e vangelo puntata che va in onda da arezzo siamo in esterna dunque perché siamo dentro le tappe del o capiamo o moriamo tour ieri sera d'arezzo bellissima serata abbiamo fatto mezzanotte con il circolo del popolo la famiglia di arezzo e oggi invece saremo a forte dei marmi al teatro delle suore canossiane di forte dei marmi saluto giovanni barbaro michela d'adamo lorenzo damiano la buon giluppi a cui dico visto oggi come sono puntuale alle ore 10 fabbio ceseri mi dà il benvenuto in toscana saluto consuelo nespoli ringrazio moreno lovat che mi ha mandato anche una bellissima canzone da ascoltare saluto francesca bruschi lillo melillo nicola ocello consuelo nespoli arrivato anche don francesco colamonaco anche ieri forte presenza di sacerdoti e di religiosi ad arezzo è un altro elemento di incoraggiamento cominciamo davvero essere abbracciati da molte persone che arrivano direttamente dal mondo ecclesiale e anche oggi andiamo al teatro delle suore canossiane a a forte dei marmi c'è omarottonelli il professor omarottonelli era presente ieri alla presentazione di o capiamo moriamo ad arezzo saluto la pongi che dice buona festa della madonna del rosario viva maria dice luca scotti saluto anche angela umbriano federico pieroni rosa e la nora gli esposti angelico angelica bosio manuela laureti e oggi è una puntata del weekend quindi un pochino più corta anche perché poi devo lasciare la stanza c'è luca cipriani davide damiano marta dondoli anche lei toscanissima saluto marta piera giacometti e allora oggi parleremo di un fatto di cronaca che avete trovato su tutti i quotidiani gli hai raccontato anche dai telegiornali questo famoso ragazzo gay che ha avuto l'assegno di mantenimento dalla madre perché la madre lo aveva cacciato di casa insomma andiamo a vedere un po questa storia racconteremo un nostro punto di vista c'è meri rossi il pdf di padova c'è monica consigliere credo dalla francia c'è francesca squarcialupi paolo ruotolo rosa non ha risposti antonio bianco e allora tutto questo sempre partendo dalla pagina del vangelo di oggi la pagina del vangelo che è al capitolo 10 del del vangelo di luca è una pagina molto bella estremamente poetica in cui cristo dice io vedevo satana cadere dal cielo come folgore io sono sempre impressionato dalla bellezza letteraria del vangelo diciamo da scrittore mi parallelo alla capacità di descrivere con piccolissime pennellate immagini che sono assolutamente indelebili e rimango ogni volta stupefatto Gesù oggi ringrazia il signore perché ha reso evidenti le cose fondamentali che lui sta insegnando ai piccoli e non ai dotti e ai sapienti non ai dotti e ai sapienti ma ai piccoli questa pagina del vangelo è reiterata nel vangelo di luca ed è qualcosa che ci incoraggia molto noi non siamo gli intellettualoni che nei giornali di oggi tutti i quotidiani senza alcun accenno polemico di discussione o di punto di vista altro esaltano l'attività dell'arcighei che ha convinto un figlio a far causa alla madre colf la madre colf che si è spaccata la schiena tutta la vita per crescere quattro figli in quel di napoli facendo la collaboratrice domestica lavando le scale facendo fatica in una condizione di disagio separata dal marito parcheggiatore abusivo e ha pensato bene l'arcighei che fosse un bene che un ragazzo di 18 anni facesse causa alla madre per ottenere un assegno di mantenimento questa è la grande idea che oggi i giornali tutti i quotidiani repubblica corriere la sera repubblica fa pure l'intervista al ragazzo che ha chiesto i soldi per via giudiziaria alla madre colf che ha spaccato la propria schiena la propria vita per mantenere e crescere quattro figli in quel di napoli separata dal marito che peraltro era un parcheggiatore abusivo quindi facendo tutta la fatica di crescere questi ragazzi una volta arrivato alla maggior età questo ragazzo pensa bene di mettersi dentro casa della madre con il fidanzato gay quindi la storia è questa la madre tra i quattro figli ha anche una figlia piccola evidentemente non considera positivo dal punto di vista anche educativo che due ragazzi gay di 18 anni convivano in una piccola casa con una bambina che deve evidentemente sottostare a una serie di comportamenti che probabilmente non saranno stati adeguati allora cosa fa? la mamma manda via il fidanzato e il ragazzo e suo figlio allora io qui intervengo con la mia esperienza personale spesso le esperienze personali mi fanno capire molto di quello che accade io sono andato via di casa a 19 anni e sono andato via di casa in conflitto con mio padre proprio quel papà che trovate descritto in non capiamo o moriamo nel mio omaggio che gli rendo a un anno della sua morte nel 1991 quando io avevo 19 anni in un conflitto molto forte provocò l'eventualità che io dovesse andare via di casa 19 anni non avevo quattrini ero un giovanissimo giornalista che viveva di pochissimi servizi che facevo per la radio vaticana guadagnavo circa 300.000 lire al mese 300.000 lire sarebbero 150 euro e pagavo 270.000 lire di affitto per il posto letto dove ero andato alla fine a rifugiarmi quindi vivevo con mille lire al giorno 50 centesimi di euro per fare tutto per un anno è andata così poi per fortuna la mia tenacia diciamo così il fatto che volessi progredire nel mio lavoro e tutto ciò che poi è conseguito ha fatto sì che quell'anno di militare io lo chiamo così l'anno di fatica assoluta fosse qualcosa che fosse funzionale alla mia crescita anche attraverso il sacrificio ovviamente ho pagato il conflitto cioè le mie scelte di vita le ho pagate di persona non immaginavo assolutamente che potessi volgere lo sguardo e dire ai miei aiutatemi mangio solo lattine di lenticchie e non ho i soldi neanche per non dico per andare a un cinema ma neanche per esagerare comprandomi una bistecca mangiavo scatolette di lenticchie scatolette di fagioli e preparato per creme caramel pensate un po' era la mia dieta per un anno è stata questa una rosetta costava 100 lire la scatoletta di lenticchie o di fagioli costava 480 lire ancora me la ricordo quella della derica e quindi restavano persino 300 lire per comprarsi il preparato per creme caramel che doveva durare una settimana e farmi da dolce durante questi lautipasti ora per carità dice luciano di battista è sbagliato cacciare di casa il proprio figlio ma ancora più sbagliato chiamare in causa la propria madre ora restiamo dentro al quadro parliamo di questa famiglia siamo dentro a una condizione familiare c'è una bambina piccola c'è il figlio che pretende di convivere dentro casa della madre con il fidanzato omosessuale a 18 anni dunque con una probabile esuberanza dal punto di vista sessuale dove c'è una bambina e io che sono papà di una bambina vi devo dire che se avessi mio figlio 18enne che pretende di convivere dentro casa con il fidanzato omosessuale devo dirlo con chiarezza tutelerei preferirei tutelare la bambina piccola e pregherei il figlio grande di assumere le sue scelte conseguenti poi ovviamente cercherei in tutti i modi di aiutarlo e magari non lo caccierei di casa in maniera brutale ma siamo dentro a una storia un confine che ha questi termini c'è una bambina e c'è un comportamento a mio avviso totalmente inappropriato di chi vuole convivere con il proprio fidanzato in una condizione di rapporto omosessuale dunque sicuramente come dire esuberante da tanti punti di vista in casa con questa bambina e c'è poi questa vicenda personale ripeto quando mi sono comportato stefano mi chiede tutelare da cosa signori a 18 anni devo far avvedere una bambina che probabilmente udirà i rapporti omosessuali tra due uomini all'interno dell'abitazione che non era una reggia tutelarlo da questo tutelarlo da due ragazzini uomini che fanno sesso e che credo abbiano condizioni di totale inappropriatezza nel convivere con una bambina che non ha assolutamente la capacità di cognizione di questo tipo di comportamento mi pare del tutto evidente da questo va tutelata esattamente vedere e sentire questo tipo di comportamenti è assolutamente un modo di turbare una bambina e lo dico con chiarezza quella come vera bongo che ovviamente viene qui col filtro profilo femminile e con la volontà di provocare come gioia galli guardate sono tutti profili di donna perché c'è un decalogo in cui alcune pagine della comunità LGBT dicono di venire a trollare questa pagina inventandosi finti profili con nome di donna e spesso finti profili con nome di donna in cui la donna si si proclama anche cattolica c'è un vero e proprio decalogo su come trollare la nostra pagina e le nostre pagine dunque quando vedete un numero un numero un nome femminile che fa una serie di commenti sulle nostre dirette vedreste sicuramente crescere un trollaggio cioè una modalità di disturbare le nostre dirette ma noi li riconosciamo i troll li riconosciamo con chiarezza allora io dico ho del tutto simpatizzato con la posizione di questa donna che oggi viene massacrata sui giornali c'è un massacro sui giornali per questa mamma che una collaboratrice domestica che si è spaccata la schiena per crescere quattro figli in una condizione di totale disagio economico in quel di napoli separata dal marito marito parcheggiatore abusivo e quindi dunque non le riconosceva alcun tipo di assegno di mantenimento da solo da sola si è dovuta crescere questi quattro figli poi si è trovato il fidanzato 18enne del figlio dentro casa e ha detto probabilmente vai a lavorare vai a lavorare fai qualcosa quando io ho deciso per le mie scelte di vita di avere una frattura con la mia famiglia d'origine litigando con mio padre mi sono assunto la responsabilità conseguente la responsabilità conseguente sono andato a lavorare ho fatto un anno di fatica indescrivibile chi mi conosce da vicino da allora sa cosa ho dovuto attraversare in quell'anno ma ovviamente erano le mie scelte di vita che comportavano delle conseguenze e le conseguenze sono state assumersi pienamente la responsabilità delle scelte e dunque ho lavorato finché la mia condizione è diventata migliore don francesco con la monaco dà tutta la sua solidarietà a questa mamma coraggio che ora si deve trovare una colf che ha mantenuto quattro figli e li ha cresciuti con un giudice che emette una sentenza che la obbliga all'assegno di mantenimento per questo ragazzo cioè questo ragazzo evidentemente inabili al lavoro non si capisce qual è il problema ma no ancora una sentenza ideologica organizzata grazie all'intervento di Archie Gay che ha avuto la brillante idea di far fare causa alla mamma colf causa del figlio alla mamma colf per ottenere persino la libra di carne vi ricordate il mercante di venezia ecco siamo dentro shakespeare la libra di carne ora quello che davvero è intollerabile è che tutto questo sia raccontato sulla stampa siamo dentro stampa e vangelo con un unico punto di vista l'unico punto di vista accettabile è quello dell'Archie Gay che ovviamente ha organizzato tutta la campagna di comunicazione l'ha dominata l'ha fatto ha fatto fare l'intervista al ragazzo ha costruito tutte le pagine con giornalisti che riportano solo la posizione dell'Archie Gay e allora tutto questo è davvero intollerabile poiché la verità lo dice la pagina di vangelo oggi viene rivelata però ai piccoli e non ai dotti ai sapienti di repubblica e del corriere della sera noi proviamo a dare l'altro punto di vista e ancora una volta pdf tv e stampa e vangelo hanno questo come lavoro proprio provare a farvi riflettere su un altro punto di vista Federico Pieroni dice i padri e le madri che si spaccano la schiena per due soldi al mese non sono degni di rispetto e sostegno per loro non si fanno scioperi della fame esattamente Federico Evergheno ma guarda che caso sarà una coincidenza che questo ragazzo gay sia in una famiglia dove manca la figura paterna è bravo Evergheno Paolo Crisorio hai ragione ma non puoi pensare di far cambiare idea a qualcuno facendo proclami mattutini di questo tono io non voglio far cambiare idea a nessuno però ho un diverso punto di vista non è un proclama è un punto di vista diverso i proclami li trovate sui giornali univocamente un'unica linea un unico coro un unico articolo sostanzialmente perché è tutto scritto con materiale che ha fornito arci gay che ha fornito arci gay e il legale dell'arci gay con in più su repubblica l'intervista al ragazzo che ha fatto causa alla madre quindi tutto il proclama non è quello di pdf tv pdf tv è un piccolissimo strumento di controinformazione ovunque ovunque troverete l'altra vicenda raccontata secondo un punto di vista da pensiero unico in termini orvegliani in termini orvegliani noi proviamo a dare un altro punto di vista possibile proviamo ancora una volta a mettersi dal punto di vista per dei genitori della mamma di questo ragazzo proviamo a cambiare proprio la posizione della telecamera una donna che lavora una proletaria che ha svolto un lavoro proletario come dice daniela scavolini che ora viene costretta addirittura a pagare l'assegno di mantenimento roberto ranaldo dice mille lire 1990 erano come potere d'acquisto 35 euro di oggi cioè sostanzialmente roberto dici che c'è stata un'inflazione del 10.000 per cento dal 1991 ad oggi non è così mille mille lire del 1990 erano forse e sto a esagerare 2 euro di oggi nicolò marino ha problemi di connessione io per la verità vedo molto sciolto anche dal punto di vista dei dati numerici che vedo davanti a me la diretta di oggi quindi quando avete questi problemi di connessione staccate riattaccate la diretta e molto spesso si risolvono i problemi di connessione comunque datemi conferma se vedete la diretta in maniera fluida perché almeno a me questo appare in questo momento roberta palmagiani propone di pregare per questa mamma e sono assolutamente d'accordo beatrice corda dice da come è stato dato risalta la notizia è chiaro che vogliono disgregare la famiglia e mettere i figli contro i genitori esattamente gabri panzera dice dobbiamo ammettere di vivere sotto una vera dittatura e questo è dittatura dell'informazione senza un via di dubbio dal coordinamento ideoriale manuela pongiluppi mi conferma che la trasmissione è tutta ok e quindi se tutto è liscio come dice piara giacomenti fate il stack e riattacca diciamo così e riuscire ad avere la diretta fluida ora attenzione dunque al tipo di informazione che vi viene fornita e lo dico ai militanti del popolo famiglia costruite sempre le condizioni per spiegare l'altro punto di vista cioè per dare una possibile lettura dei fatti che sia altra rispetto a quella del pensiero dominante vivetta ribaldi dice chiaramente è una sentenza vergognosa che serve ad allevare dei buoni a nulla e ha perfettamente ragione vivetta ribaldi cecilia bini dice grazie mario perché sei sempre chiaro come la verità è la verità ad essere chiara ripeto la pagina del vangelo di oggi ci illumina da questo punto di vista ai piccoli viene rivelata la verità dotti e sapienti corriere della serie repubblica intellettualoni archi gay e no loro hanno un po' la vista offuscata dall'ideologia perché è l'ideologia e ovviamente l'interesse che attorno all'ideologia si costruisce a guidare la loro forma mentis e anche la guidare quella comunicazione che vuole diventare pervasiva e pervasiva in maniera diciamo così opprimente o come dice qualcuno di voi dittatoriale in termini di pensiero unico don francesco con la monaco dice chiaro e giusto come o capiamo o moriamo in o capiamo o moriamo trovate i cinque comandamenti dell'ideologia gender e ovviamente uno dei cinque comandamenti è trattare la famiglia come stereotipo per disarticolarla è del tutto evidente che questo è un lavoro che viene costruito fin dalla giovanissima età lucia marchi ci conferma io lavoro all'asilo nito il gender si sta infiltrando anche lì e ormai è così oggi in toscana si tiene un convegno io sono in toscana e un convegno in cui si teorizzerà che a due anni già si può essere bambini transgender roba da pazzi c'è don massimo lapponi che dice oggi è diventato inconcepibile appellarsi a motivi morali fondamentali perciò ci si limita i danni che potrebbe averne la bambina saluto andrea davoli saluto gennaro rossi alex zino finori ugo frezza chiedo a tutti davvero facciamo uno sforzo di pensiero laterale proviamo sempre a guardare il punto di vista altro in un contesto in cui viene invece offerto un unico punto di vista questo è un esercizio che i dirigenti del popolo la famiglia militanti del popolo la famiglia e coloro che vogliono cercare di comprendere effettivamente ciò che accade devono sempre fare per avere in qualche modo un contatto con la verità altrimenti si ritrovano a essere quello che samuele bersani una bellissima canzone definisce essere copia di mille riassunti cioè non avere davvero qualcosa che pensi dice il canzone la canzone sei solo copia di mille riassunti ecco l'indottrinamento che arriva dalla lettura di certi quotidiani di certi sistemi mediatici porta inevitabilmente a una cognizione che ti fa essere semplicemente non pensatore improprio non libero con la propria testa ma copia di mille riassunti una sorta di pappagallo che ripete le impostazioni che derivano dal sistema mediatico noi questo dobbiamo cercare di evitarlo volevo ringraziare oggi da arezzo tutti gli amici che hanno lavorato al successo ieri della serata di presentazione di o capiamo moriamo ad arezzo molto partecipata molto bella grazie gabriella grazie claudio grazie daniela abbiamo fatto anche una riunione del circo del popolo la famiglia strutturando la serie di attività che dobbiamo fare in provincia andare a trovare un referente in ogni comune della provincia retina per cominciare a lavorare strutturalmente alla costruzione delle squadre per le elezioni politiche del marzo 2018 ormai pare essere chiara persino la data si dice 11 marzo 2018 arrivato anche giampiero bonfanti da monza lo saluto oggi sarò come ho detto al teatro del suore canossiane dalle 21 a forte dei marmi e anche lì struttureremo un altro collegio elettorale che è quello del nord della toscana di massa e di lucca in maniera che siamo pronti ad affrontare la grande partita decisiva per il popolo la famiglia delle elezioni politiche arrivato anche alberto cerutti che sta strutturando il collegio del novarese e come vedete il lavoro sta diventando tecnico utilizziamo la tappa di o capiamo moriamo per anche varare bene le squadre che faranno poi il ruolo di protagoniste della battaglia per le elezioni politiche ripeto con una grande attenzione ai temi evidentemente che noi dobbiamo continuare a raccontare giorno dopo giorno ricordando che oggi sono in toscana proprio nel giorno in cui fanno il convegno al consiglio regionale della toscana oggi su pro su iniziativa di sinistra italiana di un consigliere regionale pediatra in cui queste persone pretenderanno di affermare che i bambini da 2 ai 4 anni possono già essere individuati come transgender per una diagnosi di disforia di genere che sarebbe applicabile fin da questa tenerissima età dunque attenzione l'offensiva è sempre più violenta e c'è bisogno di una risposta assolutamente netta da questo punto di vista federico voleva venire oggi a forte dei marmi non ce la fa a salutare stefano e vittoria ma promette di farcela per il 14 il 14 ricordiamocelo è la grande giornata al teatro san umberto ore 11 l'apertura dei cancelli come si dice alle 11 e 30 l'evento con padre palizio botta costanza miliano e marco scicchitano il ritorno diciamo così di una storica formazione che all'inizio con i convegni contro i falsi viti del progresso avvio una stagione che arrivò poi fino ai femmini dei per un giorno solo di nuovo sul palcoscenico 11 e 30 teatro sala umberto di roma via della mercede vicino piazza san silvesto sarà un evento credo straordinario e bellissimo in uno dei teatri più belli della capitale e antichi della capitale pensate che è un teatro che in opera dal 1882 quando il papa era leone tredicesimo da pochi anni succeduto a pio nono stavamo parlando del concilio vaticano ma del concilio vaticano primo e quindi pensate un po quanto tempo è passato e ci saremo noi ci saremo noi assolutamente nel teatro a ricordare che la storia siamo noi anna del guerra ricorda che il 7 ottobre l'anniversario della battaglia di lepanto vinta nel 1571 stasera vinceremo quella del 2017 a noi la battaglia addio la vittoria bellissimo questo questa ricorrenza 7 ottobre alex zino finori dice la disforia di genere sembra un termine da supercazzola non esiste bravissimo alex zino c'è susi esti raffaele miele gabri panzera ricordiamoci riunirci al rosario della polonia c'è gasperina analizzato che dice mandate la diretta da forte dei marmi c'è flavio rozza c'è daniele viotti che è un europarlamentare del pd del mondo lgbt per capirci c'è tommaso verna c'è paola stefanini una brava insegnante di religione mi ha detto che è la promotrice di progetti contro la discriminazione di genere che ne è molto fiera e cominciano così e poi ci arrivano a spiegare quei libretti che i figli nascono da due maschi a volerlo spiegare ai bambini di tre anni anna russo dice mario vedo che anche dalle domande che fanno gli interventi la gente inizia a capire l'opera malefica che svolgono i mass media e esattamente si comprende anche il ruolo credo benefico svolto dalla fornitura di un nuovo punto di vista di un altro punto di vista di una lettura altra dei media che arriva da stampa evangelo tutti i giorni spero che sia utile per la riflessione di tutti il lavoro che facciamo sabato compreso come si dice insomma anche nel fine settimana gabela maiglia che è la promotrice iniziativa di arezzo e la ringrazio davvero moltissimo per la serata splendida di ieri ci informa che sarà presente anche alla serata del 20 ottobre a terni e dunque c'è una visita anche la regione umbria dove cominciamo a strutturare definitivamente anche lì le squadre per le elezioni politiche saremo in umbria dunque il 20 ottobre la prima tranche di date di o capiamo moriamo tocca 10 regioni 10 regioni poi nella seconda tranche faremo le altre 10 in maniera di coprire tutto il territorio nazionale saluto anche susanna rimatori che ci segue dalla cina che carina grazie susanna per l'attenzione addirittura dalla cina saluto orazio filippelli che appena arrivato bobac falamachi dice simpatica questa diagnosi di disforia indica anomalia e questa argentaglia la vuole favorire lo sviluppo naturale della personalità evolutiva proprio no è esattamente questo però l'allarme non dobbiamo solo lanciarlo dobbiamo essere strumento di combattimento o capiamo moriamo offre questa come posizione essere strumento di combattimento rispetto a questi territori del male che in tutta evidenza sono territori del male c'è laura quarta c'è che annuncia mi pare iniziative sull'insul convegno di oggi in consiglio regionale della toscana c'è claudia brignoli susanna una cara amica don kong da dove in cina questo mi sembra quando mi dicono assi di roma c'ho un amico a trastevere ragazzi la cina è grossa la cina è veramente grossa quando sono stato a shanghai a nanchino mi impressionavo di queste distanze assolutamente enormi e di queste città che da noi sarebbero province o forse una nazione intera che riguarda che hanno 30 milioni di abitanti e vengono considerate diciamo città secondarie peraltro come nanchino appunto roberta palmigiani spera di riuscire ad acquistare o capiamo moriamo nella giornata del 14 il 19 sono al villaggio breda che sarebbe un zona periferica di roma nel quartiere credo torre gaia e faremo un'iniziativa in una parrocchia il 19 di ottobre il giorno prima della data del 20 di ottobre dove ci saremo in umbria a terni per coprire anche la regione umbria alexino finori ci dobbiamo scardinare il meccanismo mediatico con cui ingannano le persone fatto questo siamo in discesa e te pare poco vast programma avrebbe detto charles de gaulle alberto cerutti il 28 ottobre o capiamo moriamo a novara nella prestigiosissima cornice del conservatorio perfetto grazie alberto cerutti facci sapere anche l'orario così cominciamo a farlo sapere in giro anche attraverso le trasmissioni della pdf tv saluto rosetta pisani anna colucci francesco colamonaco don francesco colamonaco un sacerdote dice fa specie vedere cattolici usare il giornale di repubblica come dogma di fede dico una cosa di più don francesco purtroppo repubblica è secondo una statistica rilevata qualche mese fa il giornale più letto dai sacerdoti italiani e questo è un problema serio a mio avviso per la chiesa perché la vera catechesi quotidiana viene fatta ai sacerdoti dal po di dalla lettura del quotidiano repubblica alberto cerutti ci conferma che a novara è alle ore 21 l'iniziativa palmigiani roberta dice il 29 sono a torino sì esattamente susanna rimatori ci scrive da wuhan wuhan è una piccola città di 13 milioni di abitanti esattamente quello che volevo dirvi quando vai in cina ti accorgi di questa cosa vado a nanchino uno pensa nanchino no che sarà una città di provincia fatto 30 milioni di abitanti mentre appunto wuhan che non ho mai sentito nominare a 13 milioni di abitanti cioè la somma di roma torino napoli milano e palermo e cagliari cioè le sei città più importanti in italia non fanno i 13 milioni della piccola wuhan in cina sempre ricordarsi questo che viaggiando si capiscono tante cose poi viaggiando ti si apre proprio la testa nella compensione dei fenomeni saluto marzia favero lara mafeis concetta pronesti daniela grechi adesso mi devo muovere vado verso forte dei marmi spero che la puntata sia stata di vostro interesse se lo è stata fate un mi piace alla puntata condividetela sul vostro profilo perché è importante che le notizie che abbiamo dato oggi possano essere percepite da più persone possibili in maniera che si arrivi a avere una platea sempre più ampia di migliaia e migliaia di persone che ascoltano un punto di vista altro tutto qui quindi per favore un mi piace un condividi sul vostro profilo del della puntata di oggi se la considerate rilevante maurizio martelli appreso letto e finito o capiamo moriamo grazie mario straordinario grazie davvero a te per aver letto il mio piccolo libro saluto cesare fanfani anna del guerra orazio filippelli luca campisi bartolomeo notarangelo che dice il popolo la famiglia sta attuando questo svelare le opere delle tenebre esattamente un lavoro che vogliamo fare testimoniare la verità e svelare dove sannidano le colonie del male è una delle attività programmatiche diciamo così del popolo della famiglia paolo stefanini sarà stasera al teatro delle suore canossiane a forte dei marmi dove alle 21 c'è la tappa di o capiamo moriamo tour tra l'altro trovate ben pubblicizzato sia sulla nazione sia sul tirreno quindi congratulazioni a stefano sigali ea vittoria polacci che sono gli organizzatori della serata di oggi a forte dei marmi ben pubblicizzate ben pubblicizzate appunto le iniziative di popolo la famiglia di o capiamo moriamo tour sui giornali locali lo ripeto il tirreno di oggi e la nazione di saluto anche costanza verrecchia fiorenza pasini anna ciappa dicevo capiamo moriamo è bellissimo viaggia sempre in borsa con lei il formato l'ho voluto fare proprio così da borsa per donne ecco l'idea è un libro da borsa per donne in maniera che potesse essere trasportato e sempre a disposizione visto la enorme quantità e mole di dati inserite nel libro che possono essere utili anche nel confronto nella conversazione e nel colloquio con persone che possano avere opinioni diverse dalla nostra saluto luca campisi anna russo diceva gesù aveva tanti amici che noi avremmo scartato subito appena conosciuti saluto gasperina anna ligiato il pdf la voce che grida nel deserto bello vedere che sono tante le voci adesso è sto deserto si sta affollando in qualche maniera alessandra mondelli ha trasmesso dopo la mia diretta anche lei con capiamo moriamo in borsa l'ho detto borsa da donne proprio il formato è stato immaginato per te alessandra e per tutte le signore le ragazze che vorranno avere appunto una compagnia in più che è quella di un libro che appunto si può trasportare ogni giorno daniela grechi ci sto prendendo degli utilissimi appunti dal libro grazie daniela saluto anche lorena erminia patrizia canuti per i maschi dice bobac falamachi entra nella tasca della giacca giusto è anche formato da scabile così banalmente insomma entra dunque nella tasca della giacca o capiamo moriamo grazie a momac che ha dato il punto di vista maschile diciamo così sul formato di o capiamo moriamo federico pieroni grazie per il popolo della famiglia anche per tutti gli amici che sto trovando qui questa è un'altra cosa bella mi è stata scritta una bellissima recensione da un'amica di o capiamo moriamo e soprattutto un'introduzione relativa al clima di amicizia che si respira all'interno della comunità ormai vastissima del popolo della famiglia e questo è uno dei diciamo patrimoni che dovremo davvero preservare anche in futuro anche dovessi avere uno straordinario successo preservare questo clima di amicizia che aiuta il lavoro che poi quotidianamente stiamo svolgendo saluto bella lavanda saluto giacomo collotto si sarà presente un banchetto di libri oggi a forte dei marmi dunque sarà possibile acquistare il libro durante l'iniziativa al teatro delle sore canossiane saluto ramona coltis costantino monte bove c'è marco rapetti arrigoni anche lui con in tasca o capiamo moriamo c'è bartolomeo notarangelo che in attesa che arrivi il libro non so tramite quale liberia online l'hai acquistato se invece l'hai acquistato dalla community la croce non dalla community dal quotidiano la croce al marketplace del quotidiano la croce magari fammi sapere se non ti è arrivato perché così lo 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 accelero la spedizione alessandra mondelli dice prossimo libro copertina bianca beh questo mi hai mi hai scoperto in realtà mi ha scoperto ieri claudio dicendolo dal banco della presidenza auspicando anzi che il prossimo libro sia appunto il completamento di una trilogia con la copertina bianca a formare il tricolore e sarà sicuramente così però fra quattro anni io scrivo un libro ogni quattro anni quindi piano piano insomma saluto alessandra tumino saluto bella lavanda saluto tutti voi vi ringrazio per l'attenzione anche di sabato se potete se vi è piaciuta la puntata un mi piace la diretta un condividi sul vostro profilo michela datamo fa un appello agli amici del friuli venezia giulia per organizzare un evento di o capiamo moriamo sono in contatto con la franco lincetto il nostro vice sindaco a cordenons proprio per fare un'iniziativa anzi forse più di un'iniziativa a fine novembre in friuli venenzia giulia con capiamo moriamo saluto raffaele miele i cinesi sono tanti non sono cristiani solo frutto della repressione tema troppo vasto diciamo così ma ne parleremo anna ciappa c'è mario il teatro sala umberto a barriere architettoniche l'accesso ai disabili è garantito caranna mi dispiace che ai micro fratturato il malleolo questo mi dispiace davvero saluto moreno lovat paola perissinotto che è arrivata in ritardo federico pironi dice il libro ogni quattro anni come i mondiali si esattamente con quelle cadenze tra l'altro ne uno dei miei libri un vecchissimo romanzo che scrissi ormai 15 anni fa si intitola proprio mondial e si vede che c'ho questa cadenza proprio saluto carlo manili arrivata anche giuse barbaglia che dice oggi santa maniera della vittoria viva levanto jacopo pioli anche lui dalla cina la nostra comunità di amici in cina sta crescendo a a dismisura grazie a paola casadei piara giacometti claudia brignoli piara vi dice ti piace fare le dirette vi dico la verità anche un sacrificio perché farla per esempio tutti i giorni alle 8 del mattino è un sacrificio non da poco anche perché fare una diretta come capite di questa natura presuppone un lavoro precedente cioè tutta la lettura di giornali io alle 3 del mattino effettivamente oggi alle 3 05 del mattino comincio la lettura dei giornali che produce una diretta di questo genere io abbiamo fatto mezzanotte con il circolo pdf di arezzo per la tappa di un capiamo moriamo insomma c'è anche tanta fatica e tanto sacrificio però hai ragione piena in realtà mi piace fare le dirette e mi piace avere un contatto quotidiano con tutti voi anche nel fine settimana anche il sabato come oggi in cui è per me assolutamente piacevole avere un abbraccio da ognuno di voi con ognuno di voi lincetto è quel signore che va sul canale d'italia non lo so non mi pare che vada sul canale d'italia l'anfranco lincetto è il vice sindaco di cordenols lo trovate anche qui su facebook ed è eletto del popolo della famiglia uno dei primissimi eletti e tra l'altro il più alto in grado in termini istituzionali perché è appunto un vice sindaco e dunque il capo di tutti noi per certi versi dal punto di vista proprio delle istituzioni è arrivata anche francesca marzoli la saluto alberto mori davide antonietti gerardo astore davide antonietti denuncia di nuovo la vicenda del bambino in rosa c'è il convegno sulla disforia di genere dei bambini cioè i bambini transgender del consiglio regionale della toscana di oggi un orrore la nostra controinformazione è fare due iniziative in toscana io due iniziative in toscana gianfranco amato segretario nazionale del popolo della famiglia per controinformare rispetto a questa vergogna grazie anche a gianfranco amato per il lavoro svolto appena atterrato dal cile proprio a sostegno del popolo della famiglia nonostante la stanchezza del viaggio intercontinentale un abbraccio a gerardo a bartolomeo ad angela ciconte che è appena arrivata a natan matteoda sai cosa ti piace di tema di cosa mi piace di te e mario che non ti arrabbi mai insomma in realtà qualche volta mi arrabbio questo segreto quando mi arrabbio è veramente meglio non starmi vicino però si tendenzialmente cerco di evitare la rabbia non è un sentimento utile diciamo così il 29 a torino con angela ciconte sicuramente stefano sigali e vittoria volacci non stanno nella bella ti vedremo stasera ci vediamo stasera se lo vuole ovviamente a forte dei marmi tra poco mi metto in macchina e attraversiamo la toscana da arezzo fino al nord di corte dei mani per incontrarci ecco angela dice a volte sì si arrabbia sì qualcuno mi ha visto arrabbiato ogni tanto però insomma diciamo che non è una cosa che faccio abitualmente ecco questo questo sì sono uno che cerca di non farsi mai prendere la rabbia è arrivata anche la mia mamma che è in viaggio verso siena non so quindi da dove vi sta vedendo grazie anche a chi dice che piace la pettinatura cioè la non pettinatura del mattino mi sono arrabbiato uno straguadagno dice federico è vero mi sono arrabbiato mi ha insultato e ho reagito però mi dispiace giorgio poi è morto quindi era una persona che stimava un amico mi dispiace mi dispiace sempre poi quando mi arrabbio in realtà cerco sempre poi di pentirmi immediatamente insomma di chiedere perdono in particolare al signore un abbraccio a tutti voi si dice brignoli si si dice brignoli però scusate gli accenti ho chiamato stefano sigali ho chiamato sigali per un anno e ho scoperto due giorni fa che si dice sigali perdonatemi gli accenti adesso cercherò veramente di memorizzarli tutti un mi piace un condivido a questa diretta per difendere una mamma colf che si è spaccata la schiena per crescere quattro figli ora deve essere insultata su repubbia su quella sera per via della comunicazione organizzata da arci gay che l'ha costretta persino a subire la causa da parte del figlio e a dover pagare un assegno di mantenimento ripeto messo a carico di una colf è messo a carico di una colf noi siamo con la mamma possiamo dire siamo con la famiglia siamo sempre con chi fa la fatica vera di crescere i figli lara mafei si dice grazie anche a tua moglie silvia che paziente per l'ennesimo weekend si becca il marito fuori di casa veramente un abbraccio anzi ho visto che era presente alla diretta ormai era assegnata a vedermi solo nelle dirette durante il fine settimana e quindi faremi salutare anche mia moglie un saluto monica consigliere mi chiede ma l'assegno di mantenimento dopo 18 anni come si giustifica è appunto è ingiustificabile esattamente però c'è una sentenza perché non è autosufficiente questo dice il giudice saluto anna russo anna ciappa matilde coro marco rapetti a rigoni fa la domanda centrale come può un figlio fare causa a sua madre follia follia organizzata da arci gay e dalle campagne di stampa di repubblica coriore la sera e dei sapienti e dotti torniamo alla pagina del vangelo di luca di oggi capitolo 10 a cui però la verità non viene rivelata viene rivelata ai piccoli siamo con la mamma che ha un grande coraggio da maria di norfi una buona giornata a tutti noi ci ritroviamo non domani come sapete la domenica la redichiamo al signore e torniamo con le dirette del pdf tv con il palinsesto di stampa evangelo come al solito con la puntata ordinaria di feriale che dopo le otto del mattino insomma con qualche minuto dopo le otto del mattino riesco a salutare anche valentina abruzzese che appena arrivata da maria di norfi una buona giornata a tutti